Anticipazioni Beautiful Anticipazioni Beautiful, tutte le novità delle puntate dal 7 al 12 maggio Nelle puntate della SOP Beautiful, che stanno andando in onda, tutta la vicenda si sta incentrando sul tentativo di Bill di acquistare ledificio della Spectra. E sulle macchinazioni di Sheila per diventare di nuovo la moglie di Eric. Vediamo cosa succederà nelle prossime puntate. Bill riuscirà ad acquistare ledificio di Sally? Caroline riuscirà a ritornare con Thomas?. Bill ha in mente un nuovo piano per poter costruire il suo grattacielo sulle macerie della Spectra. Infatti, il giorno prima della sfilata della casa di moda, ledificio prende fuoco. Per fortuna Sally e tutte le persone che lavorano con lei alla Spectra riescono a salvarsi uscendo dalledificio. Vengono soccorsi e portati in ospedale, dove però arrivano brutte notizie, ledificio non era assicurato. Il rischio di perdere la sua casa di moda è, quindi, molto alto per Sally. Durante il ricovero, almeno, riceve l'affetto di tante persone, compreso quello di Steffi e Liam. Proprio Liam sospetta del padre del fatto che sia stato proprio lui il mandante dell'incendio. Liam confessa a Steffi che non intende più coprire Bill e che ha scoperto che è stato lui a ordinare di appiccare il fuoco. Anche Thomas si reca in ospedale e Sally vorrebbe che rimanesse con lei, ma Thomas dice che deve occuparsi di Douglas e Caroline. Caroline. Caroline incontra Bill e gli confessa che per lei sta diventando sempre più difficile continuare a mentire e a fingersi malata e vorrebbe confessare tutto a Thomas. Bill cerca di convincerla a non mollare proprio ora e che quello è l'unico modo per riconquistare Thomas. . Quinn riuscirà a cacciare di casa Sheila?. Quinn non crede al malessere di Sheila e inizia a sospettare che lei stia solo fingendo. Infatti, la sorprende mentre canticchia chiusa nella sua stanza. . Le due donne iniziano a litigare e Sheila cerca di strangolare Quinn. . Dopo essersi liberata, Quinn corre da Eric e gli rivela tutto quello che ha scoperto su Sheila e che la donna ha cercato di strangolarla. . A questo punto, Eric capisce che Sheila gli ha sempre mentito e che è una donna pericolosa, di conseguenza la caccia di casa. . Sheila, però, non si arrende, mentre sta andando via promette a Eric che ritornerà a essere sua moglie e che un giorno sul cammino verrà appeso il suo ritratto al posto di quello di Quinn. . . Tutto questo lo potremo vedere nelle prossime puntate della SOP Beautiful che andranno in onda dal 7 al 12 maggio su Canale 5, dalle 13 e 40 alle 14 e 10. . 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